Innamorati al castello, dove l'amore è il sentimento più antico. E' questo il titolo della serata dedicata a San Valentino, un appuntamento romantico in programma venerdì 14 febbraio al Castello dell'Arancia di Tolentino. Il programma dell'evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa. Un'occasione per festeggiare l'amore e questo avverrà il 14 febbraio all'interno del Castello dell'Arancia. Quest'anno l'associazione Tolentino Arte e Cultura, che è l'associazione che gestisce i nostri musei cittadini da sei mesi a questa parte, ha deciso di ampliare la propria offerta all'interno della nostra città creando un evento ad hoc in una data importante come quella del San Valentino. Siamo molto liedi di offrire alla cittadinanza questo ulteriore evento dopo quello della Bricard, sempre in collaborazione con il Comune, un evento molto sentito dalla cittadinanza, abbiamo già avuto dei feedback positivi, c'è molta allegria e attesa per questa nuova manifestazione, questo evento, che avrà al centro chiaramente gli innamorati. Oltre ad una ricca degustazione offriremo uno spazio dedicato alla Radainz con una band locale e poi anche tutta la serata sarà rietata da delle poesie che una nostra collaboratrice reggiterà e non soltanto, avremo l'onore di poter annoverare tra i presenti anche ospiti prestigiosi e verrà poi previsto anche un premio per la miglior coppia. Quindi il Castello d'Arancia è una location che si presta molto a questo tipo di evento e aspettiamo numerosi tutti i vari innamorati per poter passare insieme una biagevole serata.